Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone bellissima di Gianluca Grignani che è Destinazione Paradiso. Bene ragazzi, questa canzone è molto semplice da suonare. All'inizio ha soltanto due accordi che sono Sol maggiore, quindi dove ci sono i due tasti mi dice il Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Si, Re forma il Sol maggiore, poi ci sarà proprio il Do maggiore, che sappiamo essere Do, Mi, Sol, e all'inizio fa così la canzone. Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate nei confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. E comincia e prosegue sempre con questi due accordi all'inizio. Sempre quattro battute per ogni accordo. Lo so per certo amico, mi sono ruotato anch'io, e per raggiungerti ho dovuto correre. A questo punto mette un accordo nuovo, che è il La minore, quindi Do, Si, La, La, Do, Mi forma il La minore, e va avanti così. Ma più mi guardo in giro è vero che Do maggiore C'è un mondo che va avanti anche se E ritorna Poi riprende come prima E dimmi perché Sempre con questi accordi In questo giro tondo d'anime non c'è La minore Un posto per scollarsi via di dosso Accelero tanto, comunque gli accordi sono sempre quelli Quello che c'è stato detto è quello che ormai si sa E allora sai che c'è, 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 c'è Sempre Sol e Do C'è che prendo un treno che va a paradiso città La minore E vi saluto a tutti e salto su Prendo un treno e non ci penso più E gli accordi si ripetono sempre allo stesso modo Fino alla parte dove dice Io mi prenderò il mio posto Dove c'è soltanto un accordo nuovo Che è il Mi minore Quindi Do, Re, Mi Mi, Sol, Si Do, Re, Mi, Mi minore E fa così Io mi prenderò il mio posto E tu sei data lì al mio fianco Mi dirai Se la zona è paradiso E finirà paradiso città Gli accordi in pratica sono sempre questi Bene, anche questa era una canzone semplice da suonare al pianoporte Io vi lascio come sempre in descrizione il link su dove trovare il testo con gli accordi Poi due link di puntate dedicate proprio a imparare gli accordi al pianoporte Ed inoltre la diteggiatura per entrambe le mani Ciao, alla prossima